Benvenuti sul Calderone di Sara, oggi vorrei proporvi un grande classico, ovvero il pollo arrosto con le patate. Per questa ricetta utilizzerò il rusticotto, ma vi lascerò anche le indicazioni per utilizzare il forno classico. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Un grandissimo bacione e spero di rivedervi nel prossimo video, ciao!